Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! In questo video vedremo qualche anticipazione di Terra Amara, della puntata di domenica 30 luglio. Per non perdervene nessuna, iscrivetevi adesso al canale! Zuleya e Hunkar, a seguito di un rimbombo di sparo che perfora il silenzio, si precipitano con i cuori in gola verso la stanza. Quando la porta cede al loro impeto, la scena che si svela davanti ai loro occhi le fulmina il piccolo Adnan, nella sua innocenza, è stato coinvolto in un incidente spaventoso, ferito gravemente da un proiettile involontariamente sparato da lui stesso. Yilmaz e Demir, a malincuore, interrompono una discussione appena avviata per ritrovarsi davanti a uno scenario sconcertante. Adnan giace in un limbo tra la vita e la morte, spingendo l'intera tenuta Yaman in un tumultuoso risveglio. L'immagine di Saniye, con un'espressione che sembra scolpita nel ghiaccio ad osservare i domestici in preda al panico, è indimenticabile. Zuleya, terrorizzata e afflitta, stringe Adnan a sé, lo avvolge in una coperta e si lancia fuori dalla villa. Ogni secondo è prezioso. Sale velocemente sulla macchina di Yilmaz con Adnan agonizzante e volano verso l'ospedale, seguiti dalla macchina di Demir. Ghaffur, testimone di questa scena, si lancia sul suo camioncino, cercando di non perdere la scia della macchina di Yilmaz. Nel turbinio di eventi, Fekeli arriva alla tenuta Yaman alla ricerca di Yilmaz. I suoi sensi intuiscono subito che un orrore impensabile si è abbattuto su di loro. Fadik, con voce tremante, lo informa dell'incidente terribile occorso ad Adnan. Fekeli, distrutto, sale immediatamente in macchina per raggiungere l'ospedale. La mente invasa da mille pensieri. Giunti all'ospedale, Zuleya, disperata, implora l'aiuto di un medico. Tra i volti presenti, appare anche Mujgan, pronta per iniziare il suo turno. Vediamo Zuleya, divorata dall'angoscia, fuori dalla sala operatoria, mentre supplica il dottore di salvare la vita di suo figlio. Ma c'è un'ombra oscura che si cela tra i dottori, Mujgan, pronta a vestire i panni del chirurgo. Vedendo questo, un'ondata di orrore investe Zuleya, che si lancia verso Mujgan, intimandole di non usare toccare Adnan, con la paura che il passato possa ritornare a perseguitare il presente. Zuleya accusa sia Yilmaz che Mujgan di aver distrutto la sua vita, e giura che se Adnan non dovesse farcela, sarebbe colpa solo loro. Ma un altro dramma si sta consumando. Mujgan si trova fuori dall'ospedale, raccontando a Fekeli la sua verità. Rivela che le sue intenzioni erano quelle di salvare il piccolo Adnan, non di creare ulteriori disordini. Avvilita si abbandona ad un pianto amaro. Fekeli, ancora sotto shock, si fa strada verso Gli, Yaman e Yilmaz in sala d'attesa, e chiede a Hunkar dettagli sull'incidente. Con un nodo in gola, Hunkar gli svela che per un errore imperdonabile, Demir ha lasciato la sua pistola in bella vista nella camera da letto, provocando una disastrosa conseguenza per Adnan. In un momento di quiete, Fekeli chiede di Zuleya. Hunkar Gli confessa che la povera donna è stata sedata, la sua disperazione era un abisso che non si poteva colmare. La scena cambia, e ci ritroviamo con Mujgan che torna nella quiete della sua casa, dove Fekeli la attende con ansia. Mujgan le confessa tutto, incluso il rifiuto tagliente di Zuleyha, quando ha cercato di entrare in sala operatoria. La reazione di Yilmaz accende un barlume di sospetto in Mujgan. È convinta che lui custodisca un segreto, quello di essere il vero padre di Adnan. Sotto una cascata di emozioni, rivela Abehice, che intende ritornare in ospedale per affrontare la questione una volta per tutte. Tuttavia, Abehice, con parole di saggezza, tenta di dissuaderla, sostenendo che ora non è il momento di affrontare tale controversia. La notizia dell'incidente di Adnan ha fatto tremare le fondamenta della villa, ma l'agitazione raggiunge un picco insopportabile quando scoprono che l'anziana nonnina è svanita nel nulla. L'emergenza richiede una risposta rapida e decisa. Un senso di urgenza impalpabile aleggia nell'aria, e tutti si lanciano in una corsa disperata contro il tempo per trovare l'anziana e metterla al sicuro da ogni pericolo. Nel silenzio della notte, Zuleya si sveglia. È un'ombra della donna che era, ma si trascina nella sala d'attesa. La sua voce risuona come un eco, mentre chiede a Hunkar notizie di Adnan. Ma purtroppo, l'operazione è ancora in corso. Ma all'improvviso, come una luce in fondo al tunnel, un dottore esce dalla sala operatoria e annuncia che il lungo intervento è stato un successo. Adnan è salvo! La gioia è un fuoco incontenibile che esplode in un abbraccio collettivo, ma c'è una figura che osserva da lontano. Mushgan, seguita da Behice, assiste a questa scena di pura felicità. L'intenzione di intervenire brilla nei suoi occhi, ma Behice, con un gesto deciso, le impone di non rompere l'incantesimo di quel momento di gioia. Nell'occhio del ciclone di emozioni, Sevda, che ha appena appreso del destino di Adnan, arriva all'ospedale. Da lontano, osserva un abbraccio fra Demir e Hunkar, che le svela un inaspettato riavvicinamento tra madre e figlio. Presa di sorpresa, la celebre cantante opta per una ritirata strategica, senza attirare l'attenzione. Allo stesso tempo, nella vasta tenuta, un'agitazione frenetica regna sovrana. La nonna è scomparsa. La scena si sposta su Zuleya, che osserva il piccolo Adnan attraverso la vetrata della stanza dell'ospedale, in attesa dell'ok del medico, non vede l'ora di poterlo tenere tra le sue braccia. Quando finalmente ottiene il permesso, entra per stare vicino a suo figlio. Subito dopo, entra anche Demir, seguito da Yilmaz. Nemmeno in questa situazione estrema, perdono l'occasione per litigare, affermando entrambi il loro diritto di paternità su Adnan. Zuleya, ascoltando i loro battibecchi, interviene dichiarando che non vuole nessuno dei due al suo fianco, e che Adnan sarà solo suo. Demir e Yilmaz restano attoniti, fermi sulle loro convinzioni. Nel frattempo, a casa di Fekeli, un intrigo si sta svolgendo. Behice suggerisce a Mugan di apparire devastata dopo aver scoperto la verità sulla paternità di Adnan, sottolineando come il destino del suo matrimonio dipende dalla sua abilità nel gestire la situazione con Yilmaz. Dovrebbe evitare discussioni, mostrando tristezza e indignazione, ma Nazire, inaspettatamente, ascolta la loro conversazione nascosta dietro la porta. Durante una cena carica di tensione, Mugan manifesta il suo risentimento verso Yilmaz, per non averle rivelato che Adnan è suo figlio. Questa rivelazione costringe Yilmaz a chiedere perdono a sua moglie. Nazire, però, non può rimanere a guardare e decide di gettare la maschera. Stanno mentendo. Mugan non sapeva già che Adnan è tuo figlio. Rivela non più capace di sopportare il peso del segreto. Yilmaz rimane senza parole. Come hai potuto, Mugan? Perché mi hai tenuto all'oscuro di tutto questo? Chiede incredulo. Mugan racconta come ha scoperto la verità, ammettendo però di non averlo detto per paura delle conseguenze e per proteggere il loro matrimonio. Fortunatamente, la nonnina riesce a ritornare alla villa da sola e, senza perdere tempo, si dirige in cucina per preparare qualcosa da mangiare. Contemporaneamente, il rapporto tra Demir e Hunkar è destinato a subire un cambiamento radicale. Demir, stanco dei conflitti, decide di affrontare sua madre per fare chiarezza. Con un misto di audacia e timore, decide di mostrare a Hunkar la lettera in cui suo padre gli chiedeva di prendersi cura di Sevda. Questo potrebbe spiegare la sua relazione e duratura con la cantante. Come reagirà Hunkar di fronte a questa rivelazione? Non perdete la prossima puntata che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena. Se avete apprezzato questo video, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace al video. Grazie, a presto!